Grazie a tutti Allora, quando è accaduto tutto ciò? Ero ancora che abitavo a casa con i miei genitori, però c'è il Signore che stava cominciando a dare i primi segnali, no? Di grazia per farmi svegliare, per mettermi a cercare la volontà di Dio, per farmi intuire che Lui aveva disegnato anche per me un progetto fin dall'eternità. Allora, mi trovavo un poveriggio nella stanza, nella mia ex stanza, sul mio ex letto, che stavo studiando, avevo esami, pile di libri, di esami dell'università. Allora, ero lì con il libro in mano, che sfogliava, quindi non c'entrava niente, la mia mente comincia a pensare da sola, cioè in modo da chi lo dava, e comincia a pensare. Ma se io fossi suona, ma che nome potrei mettere? E poi pensavo, Veronica, Veronica. Nell'altro abbiamo una bambina che si chiamava Veronica, e quindi questo nome che un po' mi piaceva, pensavo Veronica, Veronica, suon Veronica, ma sai che suon Veronica, suona bene? E poi quando faccio così, ma che so questi pensieri che mi vengono? Cioè, tra parentesi, io non sentivo di farmi soli, cioè non era tra i miei pensieri, proprio non esisteva, non c'era tra i miei pensieri la cosa di farmi soli. Quindi sono un attimo stranizzata e dice, ma che vado a pensare? Eppure San Paolo scrive, dice che lo Spirito Santo intercede per noi con gemini inesprimibili, perché nemmeno noi sappiamo che cosa sia conveniente domandare. Quindi già lo Spirito Santo che andava oltre. Quindi faccio così e dico, ma che sto pensando? Scaccio tutto, buah, e continuo a studiare da libri su libri. Che succede? Qualche giorno dopo, arrivano a casa dei miei genitori, Fra Volantino e Fra Faustino, che è l'altro fratello che guida la comunità di Romenzia Terra. Ed erano venuti tutti e due perché avevano bisogno di usare il computer, come loro, insomma, viviamo così in povertà, viviamo di provvidenza, allora gli mettevamo a disposizione quello che c'era a casa nostra e loro sono venuti là, sono messi nella stampettina dove c'era il computer e lavoravano. Allora, per una questione di cortesia, una che fa, va in cucina, prepara il caffè e mi trova da portare. Allora io, senza voler, non volevo disturbarli, quarta-quarta, cerco di me e gli metto il caffè in là, dico, non me ne vado, così non gli disturbo, anche perché tra parentesi, sono sempre stato un tipo molto sulle mie, riservato, parlavo raramente, poi compravo l'antino in modo particolare, seguivo le catechesi, un po' come fate voi, no? Poi lo vedevo alla fine che tutti lo assalpavano, che ci andavano a parlare, quindi io proprio lo guardavo da lontano, invece di vedere, non ci avvicinavo completamente. Allora lo salutavo là, ho messo sopra il ferro, ho messo in levato, si gira, tra volantino, che non ci azzecava niente in quel momento, però si gira e mi fa, ma se tu fossi suona, come ti chiameresti? Io ero guardato così, non mi ha stato male dovevo giuntare, capisci? Io l'ho guardato, ho fatto, qualche giorno fa, non lo so, mi veniva in mente il suo veronica, l'altro frate che era accanto a lui, bianco in quel momento, è imballidito nel colpo, perché stava per prendere un collasso, poi io proprio prendo le tazze e faccio come per andarmene, subito quest'altro fratello si alza e mi dice, aspetta, aspetta, ti devo fare vedere una cosa. Dico, ok, che cosa? Toglie fuori un padellino dalla tasca e mi fa leggere una cosa che aveva scritto la mattina, cioè che non poteva averla scritta sul momento perché io ero lì, e quindi è stata una cosa lamentata. Toglie questo padellino e c'era la data di quel giorno e io leggo. Oggi io parlavo con una ragazza che si chiamava sua Veronica che si voleva fare santa, punto. E quando ho questa cosa, e rimango così, e da lì ho cominciato a prendere in considerazione l'idea che forse il signore ci voleva suona. Io sono sempre spettatore, ve lo dico, quindi non mi guardate strano perché io sono spettatore, sono come voi. Ah, anche siciliano come parecchi di voi. Veramente il signore dice che io vi darò un nome nuovo, quindi che solo il signore conosce. Quindi il nostro cambiare nome non è la comunità che a noi vuole, con lo statuto che stavamo scrivendo quando eravamo dove abitavano, nella casa di Angelo, di Riccardo, stavamo scrivendo uno statuto aiutato da un vescovo, un ex vicepresidente della conferenza, il vescovo italiano. Quindi non ci abbiamo messo il nostro statuto, alla fine che dobbiamo cambiare i nomi. Però sentiamo che ancora di farlo, perché sul consiglio della parola di Dio, sul riferimento anche a Gesù, quando incontra Simone, poi lo chiama Pietro, che c'è un'origine etimologica, cioè un significato della parola, significato della parola, che viene da pietra, ma non una pietra che poi è proprio una testata, una testa di pietra, quindi proprio è la testa di San Pietro. E quindi questo nome nuovo includerebbe, se noi lo vogliamo, un programma di vita. Quindi la veronica, che è vera, icona, alla fine è poi vittoriosa. E poi la veronica, per la tradizione popolare, sappiamo che tutti quanti consola alla fine, ha sciuto il volto di Gesù, ma io pure alla fine come che lo consola. E lei consola bene alla fine, perché in giro, vediamo anche le spiglie, lei è pronta tutti quanti a mettere la buona parola di noi, tutti chi incontra, i fratelli di Sareb. Grazie. Grazie.